Le opposizioni e tutte le forze alternative alle sinistre insieme ad una rappresentanza delle componenti sociali della città, come recita la nota di presentazione dell'iniziativa, si sono ritrovate questo pomeriggio sotto Palazzo Ducale. L'attività amministrativa è ferma per l'ennesima volta per giochi politici di potere, hanno spiegato i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che sono intervenuti. Il Consiglio Comunale, rinviato su decisione della conferenza dei capigruppo, si è così riunito ugualmente, seppure in maniera simbolica. Hanno ribadito i consiglieri della minoranza presenti al Sittin. La città è ostagio di una maggioranza che è riuscita a unire forze politiche anche distanti, ma all'opposizione di questo sindaco e del Partito Democratico che governa a Sassari da circa 15 anni, è stato detto. Il primo cittadino governi, ma non ci sarà nessun sostegno da parte dell'opposizione. Va evitato un commissario nominato da chi sta a Cagliari per governare per un anno senza Consiglio Comunale e senza giunta. Oggi, 29 giugno, a quest'ora si sarebbe dovuta riunire la massima Assemblea Cittadina. Invece abbiamo assistito all'ennesima sconvocazione, all'ennesimo rinvio. Siamo veramente preoccupati per questa situazione in cui versa il Comune di Sassari. Riteniamo assolutamente che il Partito Democratico in città sia pesantemente responsabile, oltre che delle loro liti interne, soprattutto di tutti i danni che si stanno riverberando nei confronti della città. Ecco perché oggi abbiamo fatto appello a tutti i cittadini affinché si radunassero qui, di fronte a Palazzo Lucale, per protestare insieme a noi verso questa mancata tutela della città, ma soprattutto, perché no, anche della minoranza che rappresenta una consistente parte della città all'interno del Consiglio Comunale.